Bentornati su MyFootballJersey. Vediamo un grande classico del calcio europeo. Questa è la prima maglia dell'Ajax per la stagione in corso, la 2023-2024, in edizione player. L'edizione player è quella un po' più tecnica, diciamo così, con i tessuti più traspiranti. Pensate per i calciatori! Per i calciatori! La maglia non è niente male, tra l'altro questa ha sempre un grandissimo fascino dovuto alla sua tradizione. Fate attenzione perché questa è una L della versione player e devo dire che a me sta veramente di misura. Probabilmente sia una XL. Il costo lo vedete qui sopra, non aggiungo altro, molto basso, ma tanto ormai lo sapete. Se volete maggiori dettagli andate a vedere qua sotto, in descrizione, dove trovate tutti i riferimenti. Andate a vedere sempre in descrizione perché c'è un link per ottenere un coupon da 3 dollari, quindi il costo diventa ancora più basso. Ora vi lascio alla parte finale. Prima però vi chiedo di iscrivervi al canale. È un piccolissimo gesto quello che dovete fare, ma che ci aiuta a mostrarvi maglie nuove tutti i giorni. Per oggi è tutto, alla prossima! Ciao! Grazie a tutti.